E' quasi sempre il comportamento nervoso dei corrieri, sottoposti a normali controlli da parte delle forze dell'ordine, ad insospettire e a far sì che queste procedano con ulteriori verifiche. Proprio come è successo nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno, allora quando le fiamme gialle hanno fermato un'auto che proveniva da nord. Subito i finanzieri si sono accorti che l'uomo alla guida era nervoso e così dopo la sua identificazione hanno fatto entrare in azione il cane antidroga Joel, che nella zona alla base dell'autovettura dalla parte del passeggero e poi anche dal lato del guidatore ha fiutato qualcosa. Qui gli uomini della guardia di finanza di Gioia Tauro hanno trovato sette involucri contenenti cocaina avvolti in plastica trasparente e nascosti all'interno di un doppio fondo ad apertura elettromagnetica ricavato nel pianale dal peso di circa 8 kg per un valore di oltre 2 milioni e mezzo di euro. In un secondo doppio fondo sono invece stati rinvenuti 260 mila euro in banconote di vario taglio, soprattutto piccolo. Il Corriere di Nazionalità Italiana è stato tratto in arresto in flagranza di reato per trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere di Palmi a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto.